Dalla 29 luglio prossimo i treni Pescara-Milano delle 5.55 e Milano-Pescara delle 17.35 fino ad oggi freccia bianca diventeranno freccia argento con gli stessi servizi e gli stessi orari di percorrenza di 5 ore e 30 minuti ma con prezzi in aumento. Feder Consumatori non ci sta e annuncia esposti alle autorità competenti. Le frecce bianche diventano frecce d'argento e i prezzi sono da freccia rossa ma il servizio non è minimamente da freccia rossa al punto che noi sono almeno 10-15 anni che ci battiamo in solitaria perché questo scandalo possa essere da qualcuno cancellato, eliminato al punto che siccome nessuno reagisce, nessun politico della zona si fa carico di questo problema noi a fine mese presenteremo un ricorso all'autorità Garante e Mercato della Concorrenza perché l'autorità possa darci una mano. Ripeto, è assurdo che dal 29 di luglio il terreno non cambia, i tempi di percorrenza sono gli stessi ma i prezzi dei biglietti aumentino dal 14 al 38% e in un caso per l'abbonamento per Scara Rimini aumentano dell'88%. Quindi a questo punto al di là del ricorso voi vi aspettate o spicate un intervento della regione e della politica locale? Noi abbiamo anticipato questa conferenza stampa, questo incontro proprio di dare l'opportunità ai referenti politici che sono al Parlamento e in Regione di assecondare un'esigenza legittimissima della nostra collettività se non reagiscono, se fanno soltanto copia e incolla ai nostri comunicati di stampa francamente cambino mestiere. Grazie 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 Grazie